Ciao ed eccoci a questo annuncio speciale riguardante il canale Recensioni Minute canale che è nato nel 2013 e che grazie al vostro supporto è riuscito pian piano a ingranare a prendere il ritmo giusto, a migliorare e piano piano quindi si è aggiunta anche tutta la varia attrezzatura e gli esperimenti che ormai tutti conosciamo. Proprio in funzione di questo ho preso una decisione importante alcuni di voi mi hanno supportato, hanno provato a spingermi anche nei mesi passati ma ero sempre abbastanza titubante. A questo punto ho preso però il coraggio a due mani e ho fatto questo passo ovvero sia ho aperto un account su tpi. Che cos'è innanzitutto tpi? È un portale su cui tutti i creatori di contenuti possono registrarsi in modo tale che i propri follower possano donare loro delle mance, dei tip appunto. In questo caso la mancia base è di 1 euro, una tantum quindi una semplice volta ma c'è la possibilità di donare mance anche una volta al mese in modo tale che i contributi di tutti diventino una sorta di micro stipendio per il vostro creatore. La seconda domanda a cui do risposta è perché ti sei iscritto su tpi? Beh, principalmente capirete che dietro a queste recensioni c'è comunque un esborso economico da parte mia a partire dall'hardware della macchina fotografica, delle luci che devo a volte cambiare, aggiornare il pc che ho cambiato recentemente ma anche semplicemente lo spostarmi per raggiungere gli eventi o l'organizzazione ad esempio del picnic appena accaduto. Sono piccoli esborsi economici, in realtà non sono mai andato in bolletta per questo però chiaramente tutto quello che faccio deve essere sempre valutato in base a quanto ci sto dentro coi soldi chiaramente se ci fosse la possibilità di abbassare questo scoglio economico tutto quanto potrebbe essere più leggero e sicuramente i contenuti potrebbero essere molti di più non vi nascondo che il mio sogno finale potrebbe essere quello di riuscire a generarmi una sorta di micro stipendio in modo tale che la somma di tanti piccoli euro singoli diventino abbastanza per permettermi di lasciare il lavoro o passare semplicemente a part time per continuare a creare sempre più contenuto dare sempre più sostanza e sempre più corposità al progetto Recensioni Minute è chiaro però che tutti questi discorsi andranno verso il futuro nell'immediato ho deciso di partire con le orecchie basse e volare basso quindi ho deciso di dare due soli step per i vari tipper che vorranno aderire al progetto il primo è quello di 1 euro, semplicemente se mi incontrate in giro e volete offrirmi un caffè questa potrebbe essere l'occasione per farlo con questo euro che mi donerete avrete accesso a tanti contenuti esclusivi solo per chi ha fatto i tip che possono essere i work in progress delle varie recensioni, alcuni pareri, alcuni backstage i link per scaricarvi gli mp3 dei vari hangout, insomma un po' di goodies che non avrà chi non ha fatto il tip e poi un secondo step da 3 euro in questo caso potrete partecipare attraverso una community apposta alla decisione di quello che verrà messo su Recensioni Minute quindi in qualche modo decidere le scalette degli hangout oppure vedere un po' che cosa recensire andare a vedere se ci sono esperimenti interessanti insomma partecipare un po' a costruire il canale per tutti gli altri a valle di questi due step ho deciso poi di provare a fare degli step comunitari diciamo degli stretch goal come si usa sul mondo del kickstarter di questo tipo se riuscisse a raggiungere una soglia dei 100 euro mensili a quel punto prometto di registrare un filmato in più solo per i tipper di tipologia speciale che può essere una considerazione minuta, un argomento trasversale al mondo del gioco un qualcosa sulla ricerca del gioco o addirittura una specie di run through come fa Rado di uno dei giochi di cui ho parlato nell'arco del mese sempre con i tipper del livello dei 3 euro decideremo insieme quale filmato addizionale fare e se proprio spero di raggiungere questi 250 euro diciamo un traguardo davvero insperato a quel punto i filmati addizionali sarebbero due anche in questo caso li decideremo insieme e vedremo di buttarli fuori solo per la community dei tipper a questo punto passo la palla a voi come vi dicevo se vi immaginate che ci becchiamo in giro e avete voglia di offrirmi un caffè questa può essere l'occasione per farlo e poi quando ci troveremo dal vivo il caffè ve lo offrerò io in questo caso potrete diventare in qualche modo i produttori di recensioni minute e ogni singolo euro come vi dicevo mi fa piacerissimo perché sicuramente contribuirà a far crescere il progetto a questo punto niente vi ringrazio sin da ora e vi dico ciao e alla prossima